Nessuna corsa, nessun click day per presentare le domande del bando regionale per i ristori destinati a bar, ristoranti ma anche locali da ballo, catering, pasticcerie colpiti dalla crisi dovuta alle chiusure imposte per arginare il contagio da Covid-19. I 20 milioni di euro, 2.500 a testa perché ha avuto un calo almeno del 40% del fatturato saranno erogate attraverso una graduatoria dove le domande saranno classificate secondo il criterio di diminuzione delle entrate. Era giusto che questi 2.500 euro a chi ha avuto un documentato calo di fatturato, decideremo insieme in giunta se sarà un calo del 40% o del 50%, possa accedere a un bando che i primi giorni dell'anno diventerà materialmente conoscibile e tutti ci potranno con la loro documentazione accedere. Le risorse a disposizione consentiranno così di distribuire gli aiuti a circa 7.800 imprese toscane. Quindi lo prenderanno sicuramente coloro che hanno avuto il maggior danno in questa fase. Si aggiunge sostanzialmente al provvedimento del governo che ha annunciato ulteriori ristori proprio a significare che quel di più che noi possiamo concedere a questo settore che nella dinamica dei colori ha avuto la maggiore difficoltà un intervento appunto solidale. Soddisfazione da parte dell'associazione di categoria Conf Commercio Toscana e Conf Esercenti Toscana. È una misura utilissima perché intanto è stato individuato un settore tra i più colpiti, quello della ristorazione e della somministrazione in generale. E poi soprattutto perché la Regione ha accolto la nostra richiesta di scongiurare il click day che avrebbe visto assegnare queste risorse ai più veloci, ai più smart, quelli col commercialista più scaltro piuttosto che chi ne ha più bisogno. È un segno importante che noi come associazioni siamo qui perché testimonia la necessità in questo momento particolare e difficile ancora di più di fare sintesi tra le associazioni e gli enti locali. Ed è l'ora non tanto di cercare il pugno in aria o il titolo sui giornali ma stare insieme, collaborare tra associazioni, spingere sugli enti locali perché dobbiamo riuscire a tamponare il più possibile in attesa di un rilancio. Il bando partirà rapidamente dopo l'epifania e resterà aperto per circa 15 giorni. Grazie.